Chi percorre in America le varie Chinatowns non mancherà di notare la statua di un uomo vigoroso che porta in spalla un sacco di tela. I mercanti cinesi lo chiamano il cinese felice o il Buddha che ride. Questo Otei visse al tempo della dinastia Tang. Non aveva alcun desiderio di definirsi maestro di Zen né di radunare molti discepoli intorno a sé. Invece girava per le strade con un grosso sacco di tela pieno di canditi, frutta e frittelle dolci da dare regalo e li distribuiva ai bambini che si raccoglievano intorno a lui per giocare. Aveva istituito un giardino di infanzia della strada. Ogni volta che incontrava un devoto di Zen gli tendeva la mano dicendo dammi un centesimo, uno solo e se qualcuno lo pregava di tornare in un tempio e di insegnare lui ripeteva dammi un centesimo. Una volta mentre era intento al suo lavoro o gioco passò un altro maestro di Zen e gli domandò qual è il significato dello Zen? Per tutta risposta Otei posò immediatamente il sacco a terra. Allora domandò all'altro qual è l'attuazione dello Zen? Subito il cinese felice si rimise il sacco in spalla e continuò per la sua strada.